Buonasera, io sono Daniele Capozzucca, coach del team Dani del concorso amatoriale The Top Voice of Sanremo, mentre lei è Barbara. Io sono Barbara Lacchetta del team Barbie. La new entry si chiama Edoardo e ha un mese e mezzo, è il nostro fedele accompagnatore. Sarà difficile diventare grande, prima che lo diventi anche tu, tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Io sono Matteo Benetti e ho 17 anni, a dicembre ne faccio 18, canto da quando sono bambino, ma ho potuto iniziare a studiare canto solo da pochi mesi. Allora, quest'anno abbiamo avuto un buon numero di iscritti, 36 iscritti, divisi ovviamente per team, quindi sono 12 concorrenti per ogni team, di tutta l'età, proprio perché è un concorso amatoriale, abbiamo deciso di aprire a tutti, coloro che sono appassionati di musica, dalla più piccola, mi sembra che abbia 8 anni, fino al veterano del concorso, perché è già la seconda edizione che partecipa, che più tardi ve lo presentiamo. Venderei a pezzi la mia vita, per essere un minuto come vuoi. Ciao a tutti, sono Antonio Tripodi e vengo da Vordighiera, ho studiato canto e musica a livello dilettante, però prendendo lezioni sempre da maestri e da professori. Alla finalissima saremo poi noi coach insieme ai vari concorrenti a decidere poi i pezzi da portare, che saranno presentati e giudicati davanti a una giuria. Ci teniamo anche a precisare e ricordare che la vincitrice dell'anno scorso del team Barbie, Roberta Menzione, alle finali del concorso Area Sanremo, quindi alla quale facciamo un grande bocca al lupo e soprattutto anche per quest'anno c'è la Howdy A, che è una ragazza di ospedaletti, che è riscritta al nostro concorso, solamente che è stata presa ed è in corsa per un banco di amici, ad amici, il programma di Maria De Filippi, di conseguenza non è venuta, ma le auguriamo un in bocca al lupo grandissimo, come lo auguriamo a tutti coloro che escono dal nostro concorso. Io partecipo con Credo di Amara. Io con lo Sarracino di Carosone. Oh Sarracino, oh Sarracino, bello guaglione e belle faccia e belle core, tutte femmine fanno ammurà.